Un momento di festa, questa inaugurazione. Tanti amici, tante autorità, tanti rappresentanti del mondo delle istituzioni che hanno deciso di condividere con noi un momento così importante. Dopo 18 anni di lavoro siamo riusciti ad apporre concretamente in attività due impianti che rappresentano una delle eccellenze del sistema del biometano italiano. 120 aziende, più di 200 tonnellate di liquame letame generate, 20 tonnellate di biometano liquido al giorno. Credo che siano numeri che fanno paura se non sono gestiti opportunamente. Oggi in questa inaugurazione abbiamo dimostrato che la competenza unita alla capacità delle nostre aziende permette di raggiungere i risultati attesi. Grazie. 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 Grazie.